Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi del capitolo 958 di One Piece, spiegare cos'è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Ebbene sì, in questo capitolo è iniziato il terzo atto della saga di Wano, qui molto probabilmente vedremo la tanta antesa guerra, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Sulla copertina possiamo vedere il continuo della mini-avventura di Capone, Beghe e Ciurma, dato che il chitarrista aveva scambiato sciffon per Lola, egli comunica loro che Lola era adress rosa alcuni giorni fa, vi avevo detto che quell'isola era adress rosa, ed è possibile che Lola sia ancora lì. Credo che ci stiamo avvicinando alla fine della mini-avventura dedicata a sciffon e Beghe, forse finirà tra uno o due capitoli. Il capitolo inizia con un flashback di 25 anni prima della narrazione attuale. Ci troviamo sulla Oro Jackson, ovvero la nave di Goldy Roger. Al di sopra di essa vediamo ovviamente Roger, Crocus, Raylig e dei piccolissimi Shanks e Buggy. Tutti ascoltano Lord Oden, ed il Kotsuki spiega che vuole far sì che il suo sogno si avveri, ovvero aprire il paese di Wano al mondo, e Roger naturalmente gli dà tutto il suo supporto. E dopodiché la scena si sposta a Wano 25 anni dopo, nel giorno del Festival del Fuoco. Ma prima di continuare devo parlare di una cosa molto importante. Allora, per chi ha visto l'episodio 0 o letto il capitolo 0, sa benissimo che sulla Oro Jackson c'era un oggetto a forma di uovo, però tempo fa non si vedeva molto bene. Ma ora, in questo capitolo, Oda ha voluto farci vedere per bene quell'oggetto. Ebbene sì, sembra proprio essere un uovo, ma non un uovo normale, bensì uno gigantesco. Ovviamente la domanda sorge spontanea, che tipo di animale può esserci all'interno di quest'uovo? Prima di rispondervi però, devo prima parlarvi della guerra di Head War, ovvero la battaglia che la sciurma di Roger fece contro la flotta di Shiki Leone Dorato. Quest'ultimo dice a Roger che dimenticherà tutti i problemi che hanno avuto da giovani, ovvero quando Shiki faceva parte dei pirati ROX e unendolo a sua potenza militare, all'arma che distrugge il mondo, dato che Roger sa bene dove si trovi, insieme possono riuscire a conquistare il mondo. Il futuro re dei pirati rifiuta l'offerta ed iniziò quindi la battaglia di Head War. Penso che il Leone Dorato si stesse riferendo ad una delle tre armi ancestrali, dato che sappiamo che ognuna di esse è capace di distruggere il mondo. Sappiamo che Poseidon è un potere che viene tramandato tramite la linea di sangue della famiglia reale del regno di Ryugu, ed è capace di controllare i re del mare. Invece sappiamo che Pluton è una gigantesca corazzata capace di distruggere intere isole. Ed infine abbiamo Uranus, che per ora non si sa ancora cosa sia. La guerra di Head War finì perché un'improvvisa tempesta colpì quella zona di mare, e così facendo Roger riuscì a fuggire. Io penso che quell'uovo, o la creatura che poteva trovarsi al suo interno, sia a tutti gli effetti l'arma ancestrale Uranus. Infatti, nella mitologia greca, Urano era la personificazione del cielo, quindi, stando a ciò, possiamo dedurre che Roger riuscì a fuggire grazie al potere di Uranus, che potrebbe aver scagliato su quel pezzo di mare una potentissima tempesta. Così facendo, la Oro Jackson riuscì a fuggire. Comunque sia in passato feci una teoria al riguardo, e vi lascio il link qui sopra sulle schede o in descrizione. Poi non capisco perché Oda continua ad oscurarci Odel, cioè perché lo fa? Per caso vuole nasconderci qualcosa? Il suo aspetto potrebbe ricordare qualcuno che già abbiamo visto? La curiosità su questo personaggio cresce sempre più. Continuando, il terzo atto della saga di Uano inizia con la parata per la partenza dello shogun per Onigashima. Infatti, ci troviamo ad Akumai nel porto di Abu, dove molti degli abitanti dell'isola dei samurai salutano e festeggiano lo shogun Orochi. E nel mentre viene detto che Kiyoshiro non andrà al banchetto, dato che dovrà stare di guardia alla capitale. Ok, questa cosa è alquanto strana. Io pensavo che anche lui andasse al banchetto di Kaido, ma a quanto pare no. Quindi, penso che fra poco scopriremo da che parte sta questo capo della Yakuza. Perché se libera i prigionieri di Rasenzu, allora sta dalla parte dei rivoltosi. Invece se difende la prigione di Rasenzu, allora sta dalla parte dello shogun e Kaido. Proseguendo, tra i festeggiamenti delle persone sull'isola di Wano, ci spostiamo ad Udon, nel porto di Tokage, dove dovrebbe esserci il raduno di tutti i rivoltosi. Ma stranamente, ci sono solo i sette foderi rossi, Shinobu e Momonosuke. La cosa è alquanto strana, perché la ciurma di Rufi e il gruppo di Kinemon sarebbero dovuti arrivare per primi. Ma della ciurma dei Mugiwara non vediamo nemmeno l'ombra, e nemmeno quella dei rivoltosi della miniera di Udon. Ovviamente, la cosa inizia a puzzare. Nel porto Tokage è successo qualcosa di veramente grave, dato che il porto sembra aver subito un attacco. Infatti, è tutto distrutto e nessuno risponde alle radio snail. La situazione inizia a farsi critica, e nel mentre nella capitale tutti festeggiano, al porto Tokage sale lo sconforto e la tristezza da parte dei foderi rossi. E non solo, iniziano anche a pensare che tutti le abbiano voltato le spalle ed abbandonati, dato che sembra impossibile che non ci sia nessuno, proprio perché è passato solo un giorno. Ma nella pagina finale, forse possiamo capire qualcosa. Infatti, Oda ci mostra lo Shogun che si diverte spensierato ad Onigashima, e il narratore dice che la scorsa notte è accaduto un'incidente, ed il capitolo finisce qui. Che dire, un capitolo molto piccolo per gli standard di Oda, ma ciò non vuol dire che sia brutto. Sapevamo benissimo che non poteva andare tutto liscio come l'olio. Ricordiamo che Orochi, grazie a qualcuno, è venuto a sapere di tutti i piani dei rivoltosi, e quindi si è mosso di conseguenza. Sono sicuro che il prossimo capitolo inizierà col flashback della notte prima, dove verrà spiegato ciò che è successo. Io sinceramente non saprei in cosa consiste questo incidente, dato che le informazioni sono veramente poche. Escluderei una mini guerra tra gli uomini dello Shogun e i rivoltosi, perché se fosse accaduto entrambe le parti avrebbero perso molte unità, e la scritta iniziale dove dice che ci saranno 40.000 persone ad Onigashima per il banchetto sarebbe stata inutile. E poi, dove sono finiti tutti i corpi? Davvero, non so cosa pensare. Ditemi voi le vostre teorie a riguardo e schiaritemi un po' le idee. Però Oda ha voluto darci un indizio, cioè che ci sarà sicuramente la luna piena, e che si vedrà molto bene. E questo è solo un piccolo indizio sulla trasformazione dei visoni in Sulong. Quindi possiamo essere sicuri che la tanto attesa guerra ci sarà. Ma prima dobbiamo scoprire cosa è successo e perché non c'è nessuno. PS. Ma quanto è bella l'armatura che indossa Kiku? Il video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pumplink, link in descrizione, e ostando il codice, il GRU91, avrete diritto al 20% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy, e noi ci sentiamo in un prossimo video.